Chi non si fosse mai trovato prima del 1998, prima di quella assurda tragedia in Val di Fiemme, abitante turista, che forse non ha idea della sensazione di angoscia che dava in certi giorni lo sfrecciare a bassa quota tra i monti della Gorai di quegli aerei, vedere con i propri occhi le evoluzioni, sentire quel rumore, quel tuono al passaggio degli aerei, era una sensazione di profonda angoscia e questo rende ancora più incomprensibile la sentenza che mandò assolto l'equipaggio del Prowler che tranciò il cavo della Funivia, oggi sostituita da una moderna cabinovia cavalese. Bravata, sfida mortale, la rotta tenuta e quel passaggio per riprendere un filmato da far vedere poi ai colleghi, ai commeditoni, c'è un dato di fatto incontrovertibile, nessun regolamento consentiva quel passaggio e quindi di fatto quella tragedia poteva essere evitata solo attenendosi ai regolamenti. Quello che è assolutamente indigeribile e che a distanza di anni ancora suscita indignazione è come i due piloti, poi il navigatore, poi congedati dai Marines per il loro atteggiamento non furono mai sanzionati per le vittime, per aver provocato una tragedia simile, ma furono sanzionati da un tribunale americano per aver distrutto il nastro che aveva ripreso la scena, quindi un comportamento che fu considerato ostacolo alla giustizia. Quella situazione, come si ricorderà, provocò anche una difficoltà, un momento di attrito nei rapporti tra Italia e Stati Uniti, il Presidente allora era Bill Clinton, chiese scusa ai familiari delle vittime, quello lì per lì non fu sufficiente, poi in nome della ragione di Stato tutto si risolse, ma ancora oggi quella tragedia risulta di fatto inconcepibile e inaccettabile la sentenza. Ecco quello che resta della cabina numero uno della funivia del Cermis, vicino a Cavalese, in provincia di Trento. I soccorritori descrivono scene agghiaccianti, irriconoscibili i corpi delle 20 vittime. Ma ricostruiamo i fatti con l'aiuto della grafica. Sono le 15.30 quando un aereo da guerra americano, partito dalla base di Aviano, trancia il cavo portante della funivia del Cermis.